Ci troviamo a Meduna di Livenza, qui alla festa della birra con il presidente della prologue di Meduna, Renzo Battistella. Allora, ci sta per concludere appunto questo weekend la festa della birra, come andate? Beh, sicuramente un bel risultato, anche questa sera c'è abbastanza fluenza, domani sera l'ultima serata, con i Buzzmates, questa sera c'è Jackson One e la prossima settimana c'è la Boie. Ecco, per chi non conoscesse Meduna o questa zona, la Boie, diciamo questa espressione che viene usata spesso a Meduna, la Boie, a varie interpretazioni, no? Però voi avete usato questa frase per fare una festa dove ci sarà anche della gastronomia un po' particolare rispetto alle tradizionali sagre, ecco, ce ne può parlare? Certo, sono più di cent'anni che a Meduna si dice il detto a Boie e proprio per questo il precedente presidente della prologue, attuale sindaco Arnaldo Pitton, ha inventato questa festa, diciamo, culturale e no gastronomica, nel senso che per ricordare un po' i tempi di una volta, ci sono queste pietanze particolari che non si trovano più e non si usano più. Una volta erano di uso comune nelle famiglie di tutte le case, in tutti i rioni, i quartieri, oggi per trovare queste pietanze bisogna che qualcuno le proponga a qualche festa tipo questa, altrimenti ci non si trovano più. Con noi il sindaco di Meduna e Livenza, Arnaldo Pitton, in un abbigliamento un po' particolare perché oltre che il sindaco fa anche il cuoco. Beh, non è che faccia cuoco, la prologue aveva bisogno in cucina e ci sono nato ben volentieri, insomma, ecco, il cuore qua da oltre 30 anni e quindi all'invito non ho potuto che accettare, ben volentieri. Non potevi resistere, no, dopo tutto questo tempo in prologo perché adesso c'è Battistella, però insomma 30 anni non sono pochi. Questa festa di questa sera, la prossima sera ci sarà la festa della boie. Ho visto che avete messo un cartello proprio all'ingresso della vostra cittadina per rievocare questa parola, la Meduna, la boie, che si dice abbia più di un'interpretazione, no? Sì, nel corso dei secoli ci sono state varie interpretazioni, la realtà è una, è storica, è vera, è stato un voto di dipendenza, di autonomia rispetto a Motta che voleva annettere Meduna sotto nel 1881 e così, questa parola la boie nel corso degli anni è rimasta e io ho voluto recuperarla e rendere partecipi i cittadini e anche i giovani che vedo che quando facciamo l'evento la boie quest'anno è il quinto anno, il 18, venerdì 18 sarà il quinto anno e vedo che è molto partecipata, piace molto. Meduna di Rivenza, sindaco, come va? Bene, è un impegno fare sindaco anche di un piccolo paese, è un impegno come un paese di 10.000 abitanti, abbiamo tante cose da fare, qualcune le abbiamo già fatte e ci stiamo lavorando, insomma, lavoriamo con impegno e passione. Grazie a tutti!